L'associazione Gutenberg coinvolge 37 istituti scolastici di ogni ordine e grado in tutte e cinque le province calabresi, numeri che danno il senso della grandezza di un'iniziativa che è riuscita a ritagliarsi un ruolo di primo ordine nel panorama culturale nazionale. La Calabria non è solo un drangata, la Calabria non è solo malaffare, la Calabria sono le migliaia e migliaia di ragazzi che con il progetto Gutenberg è uno delle vie per rigenerare questa regione. Ecco, noi abbiamo questa ambizione e questa convinzione. Il tema 2014 scelto dal liceo catanzarese intitolato Pasquale Gallupi è di estrema attualità. Natura, artifici e storie. People find any sentences which can be regarded as origin of the Saptabangin. Moreover, the second set we quoted here appears at the end of chapter 4 of the Tattabasa Sutra in which Osa describes cosmology in Jainism, so it has no direct relation with Safutabangi. Thus, we can assume that the second formula was coined by Akalanka by himself. Akalanka, however, must not have coined it without any hints from a senior Jain philosopher. For example, just after the second formula, he quotes a verse in Parakrit whose Osa is unknown. A possible hint for the formula may be birthed by the Samantha Baddler. In the 14th verse of his Aptamimasa, he declared, I translate, By you, it is regarded to exist surely in a sense while not to exist in other sense.